ciao a tutti bentornati sul mio canale vi presento questa bellissima collezione di madame glam che contiene dieci colori è una delle mie collezioni preferite colori perfetti per autunno e inverno vi faccio vedere anche questi fantastiche pads che non lasciano i pelucchi perfetti per pulire i pennelli io quando disegno il zebrato preferisco di disegnare prima tutto il disegno e dopo asciugare in lampada che così nel caso se non mi piace qualche striatura lo pulisco lo rifaccio ciao 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 copro l'unghia con la base gel e senza asciugare spolvero sopra la polvere acrilica trasparente Quando ho finito l'asciugo in lampada. Con un spazzolino tolgo la polvere acrilica in eccesso. Copro l'unghia con tre colori e non asciugo in lampada. Uso la base gel e un pennello degradè per sfumare i colori. Quando ho finito asciugo in lampada. Lasciugo in lampada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ho unito il disegno, asciugo in lampada. Disegno le macchie leopardate con un pen senza dispersione nero e non asciugo in lampada. Grazie a tutti. Copriamo il nostro disegno con un effetto fusi e asciughiamo la lampada. Consiglio di asciugare questo effetto due minuti e dopo, quando è finito di asciugarsi, spolveriamo con una spazzolina morbida. Copro con la base gel solo la parte dove farò la sfumatura e non asciugo in lampada. Spolveriamo sopra l'acrilico trasparente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sulla dispersione del prodotto attacco i pezzettini di foil dorati. Grazie a tutti. 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 e lampada spolvero sopra l'effetto fusi 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 l'effetto fusi